Il tempo stringe e a fine mese l'amministrazione comunale potrebbe paralizzarsi in seguito alla impossibilità di prorogare i contratti per una cinquantina di lavoratori a tempo determinato, più 14 educatrici del nido comunale. Ad impedire una ulteriore proroga è il Jobs Act che vieta rinnovi oltre i 36 mesi. A fare le spese di questa situazione sono state già molte famiglie, in quanto senza le 14 educatrici del nido, il Comune ha dovuto chiudere due strutture su tre, smistando i piccoli negli asili privati convenzionati. A fine mese anche i servizi essenziali dell'amministrazione potrebbero paralizzarsi, alcuni legati proprio alla ricostruzione. La politica si è messa al lavoro per strappare una deroga al Jobs Act, una speranza potrebbe scaturire anche dalla circolare emanata due giorni fa dal ministro Madia che contemplerebbe rinnovi, ma solo per alcune categorie di lavoratori precari. Mentre il sindaco Massimo Cialente sembra piuttosto scettico circa l'applicazione della nuova direttiva, la senatrice Stefania Pezzopane è convinta che la circolare potrebbe risolvere il bubone dei precari, in vista a un incontro chiarificatore con il ministero la prossima settimana. Nella circolare si fa chiaramente riferimento alla potestà del sindaco di valutare l'emergenza e la necessità delle proroghe per garantire il proseguimento dell'attività scolastica. Io mi inserirei in questo spazio per utilizzare peraltro ben due proroghe Ope Legis. Tutto dovrà essere fatto subito perché i nido apriranno a brevissimo. Se lei fosse il sindaco se la rischierebbe? Ma io penso di sì. Il sindaco è una persona coraggiosa. Se avessimo fatto prevalere la volontà dei burocrati in tantissime occasioni questa città oggi sarebbe ferma ad aprile 2009. Per fortuna abbiamo sempre fatto prevalere la politica e l'interesse generale.